È stata inaugurata dal sindaco di Palma Campania in collaborazione con la Camera di Commercio di Napoli, Mangiatuia e Mangiatoria, un villaggio alla scoperta dei prodotti tipici della regione Campania attraverso il presepe napoletano. L'iniziativa segna l'inizio del Natale a Palma Campania. I cittadini e i turisti hanno potuto effettuare un giro tra le botteghe del gusto, la mostra a mercato con i prodotti tipici della tradizione natalizia, in degustazione e in vendita pane, pasta, vino, oli, formaggi e i prodotti della terra. Una passeggiata lungo la corte del gusto per incontrare gli espositori, dialogare con loro e soprattutto assaporare i migliori prodotti tipici del territorio palmese. Laboratori creativi per grandi e piccini, animazione, musica e teatro hanno fatto il resto, assieme alle quadrie e l'associazione dei commercianti e dell'istituto comprensivo Vincenzo Russo. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il sindaco Nello Donnarumma che soddisfatto ha affermato. Questo è un presepe da vivere perché è un presepe vivo, è un presepe che ti coinvolge e che coinvolge e anche a tratti sconvolge. Spazio anche alla solidarietà. Spazio alla solidarietà. Abbiamo voluto fortemente con questo primo giorno della Kermes far sì che tutti i cittadini di Palma Campania e tutti i simpatizzanti a questo evento portassero con loro una busta. Una busta il cui appello è stato fatto anche in Consiglio Comunale ai consiglieri di maggioranza e di minoranza. Tutti uniti sotto il tetto della solidarietà. L'evento Mangiatoi e Mangiatoria nasce da un'idea di Giuseppe Ottagliano. Presente alla manifestazione è anche il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Fiola. Qui a Palma Campania, la buona Palma Campania, come la buona Camera di Commercio. Oggi con i fondi del bando che ha messo a disposizione la Camera di Commercio in quasi tutta la provincia di Napoli stiamo assistendo a un attaccamento e a un riconoscimento di quello che ha fatto la Camera di Commercio per il territorio.